Salve, sono Tamburini Alan, azienda agricola Fonsine, gestiamo circa 1.500 litri di terra e niente, siamo qui oggi per parlare del rotante acquistato Bednar 7000 Cator e la macchina intanto l'abbiamo provata su terreno come abbiamo fatto oggi nel video, molto duro, abbiamo dato una prova di forza su una macchina che per me è molto valida e come si vede nel video lavora molto bene. Sui consumi abbiamo visto che siamo su circa 45 litri all'ora, la macchina affina molto di più. Abbiamo visto una differenza molto grande, abbiamo visto e siamo molto contenti, sia come tirarla sia come spianarla, siamo molto contenti. Abbiamo dato fiducia a Bednar d'anno scorso, siamo partiti e adesso stiamo andando sempre più su con delle macchine, abbiamo preso altre macchine e niente, sono contento. Grazie a tutto lo staff Bednar che ci ha seguito, che ci sta seguendo e complimenti per le macchine che avete, che state gestendo perché sono molto affidabili e confortevoli. Poi c'è anche il discorso del oggigiorno della garanzia di 5 anni totali della macchina che penso che non ci sia nessuno che oggigiorno dia 5 anni totali sulla macchina. Grazie a tutti.